Difondere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva è partecipata con particolare attenzione alle nuove generazioni. Con questo intento è stato siglato in prefettura un protocollo di intesa tra il prefetto Maria Teresa Cucinotta e il fondatore dell'Associazione di Promozione Sociale e Democrazia nelle Regole, Giulio Bacosi. Un percorso di sensibilizzazione e formazione al valore delle regole della civiltà a partire dalla Costituzione, rivolto in particolare agli studenti e alla cittadinanza in generale, quello che si intende avviare sul territorio che segue il protocollo di intesa nazionale stipulato il 15 novembre del 2012 e rinnovato il 15 febbraio del 2016 con il Ministero dell'Interno. Questo è un altro tassello che qui come prefettura abbiamo voluto mettere nel nostro percorso per l'affermazione della legalità. La legalità, come dico io, non a chiacchiere ma con i fatti, è reale. Quindi questo protocollo è molto importante. Ringrazio l'Avvocato Bacosi per aver coinvolto Caltanissetta anche in questa iniziativa. Noi promuoveremo unitamente all'Associazione da lui presieduta anche dei seminari, dei momenti d'incontro, proprio perché la nostra intenzione è quella di promuovere il rispetto delle regole, da quelle più elementari, io dico dall'educazione, dall'educazione civica, fino che è la base per il rispetto l'uno degli altri e non la prevaricazione o favorire l'essere furbi o svicolare da quelle che è il rispetto del diritto e delle regole. Io mi sono laureato in giurisprudenza e ho scoperto la bellezza delle regole e questo ha comportato in me la volontà, anche l'esigenza, se vogliamo anche il desiderio che parte dal cuore di portare le regole, soprattutto ai più giovani. Innamorarsi delle regole significa, e da questo punto di vista ringrazio il signor prefetto di Caltanissetta che ha avuto la bontà di ospitarci, significa superare la prevaricazione e inverare l'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, significa che non è fondata sulla furbizia, sulla prevaricazione, è fondata sulla operosità e sulla buona fede dei suoi cittadini. Tutto questo lo dobbiamo andare a dire ai ragazzi con un linguaggio semplice che possa farli innamorare delle regole e questa, diciamo, l'idea è nata da qua. Abbiamo siglato un protocollo nazionale con il Ministero dell'Interno e a valle di questo protocollo una serie di protocolli locali in tutta Italia, su tutto il territorio nazionale e, insisto, devo ringraziare il signor prefetto di Caltanissetta perché Caltanissetta insieme a Catania sono le prime due province nelle quali viene siglato appunto il protocollo a valle di questo protocollo nazionale con il Ministero dell'Interno. Questo significa far partire a Caltanissetta come a Catania un percorso di regole che è già partito anche al nord, come al centro, come al sud. Vogliamo un'Italia unica nel nome della Costituzione.